Riccardo Costi inizia benissimo l'anno per il Villa San Giovanni, è una partita molto maschia, alla fine l'avete portata a casa? Sì, è stata una partita maschia, come dici tu, siamo riusciti a portarla a casa grazie alla nostra difesa e all'unione che c'è in squadra. Loro sono una buonissima squadra giovanile, infatti ci hanno messo in difficoltà come si vede dal punteggio, però abbiamo avuto maggiori esperienze che loro e maggior tenacia, comunque abbiamo iniziato meglio questo 2018. Out Markovic e Dolce, è stata lì la chiave per il Villa per consolidare la vittoria? Beh, diciamo che sono i loro migliori giocatori, quindi uscendo loro per cinque falli magari hanno avuto poche risorse in attacco, quindi forse lì è stata la chiave della nostra vittoria. La prossima gara contro la Nova Gioli, ti dice qualcosa? No, è sempre un piacere, perché comunque, come ho già detto molte volte, sono ragazzi che ho cresciuto, sono cresciuto loro, quindi comunque è sempre un'emozione per me vederli giocare contro insieme con me. Quindi, sarà una bella sfida. Ora, a parte gli scherzi, dopo la Nova Gioli c'è la gara forse più importante di tutto il campionato per il Villa San Giovanni, contro Soverato. Si proverà a ribaltare il risultato per questo quarto posto? Eh sì, sarà una partita, un'altra battaglia, dove dovremo assolutamente, se vogliamo arrivare a giocarci il quarto posto, come più volte ripetuto dai miei compagni, quindi, sì, dovremmo cercare di ribaltare il risultato e vincere e poi mantenere soprattutto dopo la posizione. Ivan Castagnella? Ivan, dovrebbe darmi un bacio. Però... 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 bravo vai bravo la testa